Bentornati, vi siete accorti che è iniziata la festa? In esclusiva sul nostro canale il film in stile Blair Witch Project, diviso in dieci episodi. La serie è un horror thriller che segue le vicende di una presunta festa tra amici. Ad un certo punto però qualcosa andrà storto. Peppino, mi fa il lavativio qui e qua, dai che ci stanno... Questi che te vanno, vieni! Arrivo! Piccate, ora viene il mio figlio e spiega tutto lui che è tanto bravo. È un bravo ragazzo, ho avuto giovane, però ora lo so cresciuto da sola, mi è venuto proprio... Ancora mi ricordo che era piccoletto, portavo al stadio per il passeggino a vedere Lazio, vabbè queste cose, comunque è bravo, mica come i tanti che girano. Ah, ora senti, questi parlano strano, mica li capisco, traduci. Ci hanno detto che hai degli acidi da paura. Ma che sono sti acidi? Eh, che sono sti acidi qua, eh, che so, che so sti acidi? Sì, so ghiaccioli, so ghiaccioli al limone. No, non ce l'abbiamo qua roba, eh, che fa male. Fa bene la castrite, se te mangi troppi ghiaccioli al limone quelli te si ripropongono, come i sarmoni controcorrenti, capito? Senti, fai una cosa, pigliate questi, sono dolcitti da Amsterdam, 30 euro. Eh? Grazie. Ma che gli ha dato, mo? Eh? Che gli ha dato? Eh... E per rimanere sempre aggiornati su tutti gli episodi, cliccate su questo link. Tutti i video li trovate nella playlist La Festa Movie sul nostro canale. Siete tutti invitati. Ciao e alla prossima.